Strane paure emergono a pochi giorni dal referendum sull'indipendenza scozzese, che genera tensioni con l'avvicinarsi della data fatidica e con i sondaggi che danno un testa a testa. 38% sì, 39% no, ma soprattutto 23% di intervistati che si dichiarano indecisi, dice l'ultima rilevazione. Poche settimane fa il fronte indipendentista era indietro di una ventina di punti. A Berwick, a Pontide, cittadina inglese alla frontiera con la Scozia, un negoziante teme il cambio di moneta. Circa la metà del mio volume d'affari viene dall'altra parte della frontiera. Usiamo banconote scozzesi e inglesi, per noi sono la stessa cosa. 5 sterline scozzesi sono 5 sterline. Se la Scozia diventasse indipendente, 5 sterline scozzesi potrebbero diventare 3 sterline o 7, diventerebbe più complicato fissare i prezzi e ci sarebbero spese bancarie ulteriori. Il sindaco Isabel Hunter invece teme che la frontiera possa diventare più chiusa. Se dovesse diventare una frontiera dove vengono chiesti i passaporti, questo potrebbe essere pesante per gli abitanti di Berwick, abituati a andare di qua e di là ogni settimana, ogni giorno, ogni ora. Dal fronte del Sì osservano che queste sono paure assurde perché la sterline scozzese resterebbe agganciata a quella inglese e la frontiera resterebbe aperta nell'ambito del trattato di libera circolazione già esistente tra Inghilterra, Irlanda, Scozia e Isola di Man.